Per il ciclo il mio nome è Bond. James, per i miei amici. 007, finalmente. Buongiorno signore. Lui vi promette la luna. Due minuti all'anima. Canciare SSR. Cosa sta cercando di fare? È l'inizio di una nuova civiltà. L'agente segreto, l'unico. Roger Moore è agente 007. Moore Rail. Operazione Spazio. Stasera alle 21.25. Rete 4. Per il ciclo il mio nome è Bond. 007 non è un prefisso. James, torno subito. È una chiamata all'azione. Operazione Undertow. Le informazioni sono tutte qua. E lui sa sempre come rispondere. Roger Moore è James Bond. Erano i miei genitori che ho ucciso, non i suoi. Agente 007, solo per i tuoi occhi. Sabato 21.25. Rete 4. Per il ciclo il mio nome è Bond. Roger Moore è James Bond. Operazione Undertow. Le informazioni sono tutte qua. Agente 007, solo per i tuoi occhi. Oggi 21.25. Rete 4. Per il ciclo il mio nome è Bond. Quest'uomo deve essere ucciso. E così lei è la misteriosa Octopus. Roger Moore è... Agente 007. Octopus e Operazione Piovra. Sabato 21.25. Rete 4.